In Moldova monta la preoccupazione per le possibili influenze della Russia sulle elezioni presidenziali e sul referendum per l'adesione all'Unione Europea che si terranno in autunno. Per contrastare eventuali tentativi, le autorità locali monitorano la disinformazione e la circolazione sospetta di denaro, come scoperto lo scorso novembre per le elezioni amministrative. I sondaggi indicano che la maggioranza dei Moldavi vuole aderire all'UE, ma l'opinione è comunque divisa in vista del voto di ottobre. La nostra Moldova lavorava in l'UE, come i latvisi, come i primi strani dell'UE. Allora, noi stiamo a differenza di strani dell'UE e l'integrazione sarà difficile per le persone e bisogna peristare tutto in strada. Questo credo che non è la maggior parte. Molti temono che la regione filorussa della Transnistria possa finire nelle mire di Putin, come l'Ucraina. L'ex Repubblica Sovietica, con 2,6 milioni di abitanti, ha presentato domanda per entrare nell'UE nel 2022. Da poco ha ricevuto l'ok ai negoziati. La presidente Maya Sandu ci conta per la sua rielezione. La domanda è la prima. Grazie.